Eccola, scalda subito i piedi che ce li hai tutti gelati. Dai, fammi vedere. Come mai hai otto il zoccolo? Line, vieni su a vedere. Gli è arrivato un altro fratellino. E' venuto a casa con i piedi tutti bagnati. Non dici che si è rotto lo zoccolo. Cito l'è. Vieni qua vicino. Hai visto? E' venuto a casa con i piedi. Grazie.